per molte tre buone sta più buone c'è stato non poterlo 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 oh oh mamma ragazzi guardate la messia la bella la bella mahaha no no all in upsell no no I like it I like it you wanna jump if the short Charlie 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 no 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 non respect man no 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 No, 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 no Vedi che c'è l'estero? Vedi che c'è l'estero? Tutto a balcone A noi a 5, a noi c'è l'opetano a 5, qua stanno a 4, quindi dall'altro a 5 sul balcone A noi 6 e 7 balconi, da 7 a salire 6 e 7 e 8, qua è 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 balconi 7 e 9 e 8 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.